A posto, progetto! Icchi che prova a riprendere in mano, una volta acquisita la leadership, scendendo in corda su Scorsese, in terza posizione Amazzo Invittori, precede Key of Desire e Sunrise Spirit che è quinto, poi City Napoli con all'interno Pisto Royale nella scia Bagonghi, sulla curva De Becchi è in vantaggio su Scorsese, terzo in corda Key of Desire che all'esterno Amazzo Invittori, Sunrise Spirit, City Napoli, Pisto Royale, e poi Bagonghi, si entra addirittura, De Becchi prova a allungare, in seguito da Scorsese all'esterno si presenta Sunrise Spirit che va su Amazzo Invittori, due vanno su De Becchi che prova a allungare, De Becchi in corda, attaccato da Sunrise Spirit, poi City Napoli, poi Bagonghi, nel finale Sunrise che aggredisce De Becchi che prova a reagire, Sunrise Spirit in vantaggio, Sunrise Spirit su De Becchi, poi Amazzo Invittori e City Napoli con Sunrise Spirit, che batte De Becchi. Nulla da riproderarsi, Fabio è perfetto in sella, va davanti, scandisce ritmi, trova però un cavallo.